Buona domenica, oggi letture. Letture, allora, chi gioca nel Milan conosce la sua storia, o la sente dentro fino in fondo, o fa scelte diverse che vanno comunque rispettate. Pochi possono darti quello che il Milan ti dà. Ora, si scherza naturalmente, abbiamo scomodato il grande maestro De Amicis, che tra l'altro ha dato anche il nome alla mia scuola elementare, tanto così per la cronaca, abbiamo scherzato, dicevo. Però, 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 resta il fatto che la costruzione di una squadra, l'importanza del valore umano in una squadra, ma direi un po' in tutti i settori lavorativi, in tutti i gruppi di lavoro, è fondamentale dal mio punto di vista. Almeno, se vogliamo fare così, se vogliamo parlare della situazione del Milan attuale, almeno nel momento in cui devi ritornare ad essere qualcuno, devi ritornare a essere un qualcosa di importante. Ecco, in questa prima fase di ricostruzione ti servono scudieri che abbiano dentro quello che vi ho appena letto, che sono parole, naturalmente, di Franco Baresi. Perché questo discorso? Perché ieri abbiamo visto le lacrime di Samu, abbiamo visto l'entusiasmo di Tomori, abbiamo visto una squadra che, dal punto di vista umano, dal punto di vista di carattere, ha tirato fuori delle energie e una grinta, una voglia, che non avevamo nel primo tempo, che avevamo smarrito nel primo tempo. Siamo stati confusi. Poi, come ho detto ieri, capita un giorno dove non ti svegli bene, capita a tutti. Resta il fatto però che il valore umano, il capitale umano, è un qualcosa di importantissimo e credo che non sia banale, da questo punto di vista, che la ricostruzione del Milan abbia avuto inizio con il ritorno di Paolo Maldini, che è un uomo che, insieme a Franco Baresi, sa che cosa vuol dire questa cosa. Perché? Per due ragioni. Primo perché ha vissuto con il Milan tutta la carriera, l'ha vissuta trasformando la sua pelle in quella maglia, e poi perché sono uomini di un'altra generazione. L'ha detto anche Baresi in un'intervista. Sono uomini di un'altra generazione che hanno probabilmente uno spirito diverso, una scala di valori diversa. Questa scala di valori però non è detto che debba appartenere solamente alle generazioni passate. Può essere trasferita. Si può provare a trasmettere dei valori, dei valori della serietà, dell'impegno, di quello che diceva Franco, del senso di appartenenza, dell'orgoglio di vestire la maglia rossonera. Queste cose si possono trasferire. E io credo che sia il nostro valore aggiunto in questo momento, oltre al fatto che, dal punto di vista di soluzioni, abbiamo una rosa più forte rispetto a quella dell'anno scorso, però credo che questo spessore umano possa fare la differenza più magari di una giocata, più dello spunto di un giocatore molto bravo, ma individualista, e quindi davvero la costruzione di questo nuovo Milan passa attraverso questa scala di valori, passa attraverso queste persone che sono capaci di far capire che cosa vuol dire stare al Milan e sono capaci anche di far capire che per stare al Milan è necessario fare certe cose, che per stare al Milan è necessario comportarsi in un certo modo, è necessario essere seri, è necessario essere amanti della maglia. Penso sempre al rinnovo di Davide Calabria e altre situazioni che probabilmente vedremo che ci dimostreranno quali sono i giocatori sui quali puntare per costruire il nostro futuro. Samu Castieco ieri chiaramente è stato l'elemento che ha portato confusione all'interno della partita, che ha portato quella grinta, che ha portato quella spinta, anche Radekrunic, due giocatori che sono stati spesso contestati, che sono stati ritenuti non all'altezza di vestire la maglia del Milan. Se vogliamo parlare in senso assoluto forse queste persone hanno anche ragione. Sicuramente Castieco e Krunic non sono due fuoriclasse, sono due giocatori che servono in questo momento, sono due giocatori che adesso al Milan stanno benissimo perché sono portatori di quella voglia, di quella serietà, di quei valori di cui vi parlavo prima. Mi rendo conto che abbiamo criticato in questi anni, abbiamo criticato tutti praticamente perché le cose non andavano bene, quando poi le cose vanno bene è molto più semplice dispensare complimenti, però c'è proprio questo aspetto, questo aspetto delle persone, questo aspetto della passione e della serietà che hanno dentro che secondo me trascende anche i valori calcistici. Poi, ripeto, perché sono giocatori che vanno bene in questa fase, che sono fondamentali in questa fase? Perché quando le ambizioni cresceranno, quando le cose cominceranno a essere di nuovo da storia di Milan, a quel punto è chiaro che la richiesta da un punto di vista sportivo, da un punto di vista tecnico, sarà più alta. Ma credo che se ne rendano conto anche loro, credo se ne rendano conto anche loro, ma in questo momento giocatori così sono importantissimi, sono importantissimi. Poi, chiaro, le valutazioni tecniche si fanno, Maldini le fa molto più di noi e molto meglio di noi anche perché appunto non è che parliamo del libro cuore, è sempre comunque una squadra, è sempre un'azienda, è sempre una situazione dove si devono conciliare queste cose. Ma ripeto, in questa fase, in questo momento, questi valori dei giocatori sono l'arma in più che secondo me potranno veramente condurci a grandi soddisfazioni. La partita di ieri è una partita non banale, è una partita che in altre circostanze negli ultimi anni non avremo mai recuperato, mai, e questo secondo me vuol dire tanto. Buona domenica.